Quadrado punta la porta, Quadrado, raso terra per Miretti, va Fabio, Miretti dall'altra parte per Costic, la può mettere in mezzo, Costic su, traversone, attenzione, cercare Bremer, palla fuori, Clayson Bremer, chiama lo schema di Marco, su, traversone in mezzo, colpo di testa, palla fuori, clamoroso, opportunità per l'Inter, attenzione a Mkhitaryan, l'apertura, cercare Barella, Barella vuole calciare, Barella, il volo in mezzo per Dumfries, si divore, gol dello 0-1 l'Inter. Cialanoglu, palla sul destino, Cialanoglu, conclusione, Shesti, gran miracolo, calcio d'angolo, Juve prova a salire con Costic, bel movimento del serbo, ancora Filip, Costic, arrivano tutti gli altri come dei treni, Costic vuole aprire dall'altra parte, ma Filip, Costic, Costic, dentro il pallone, deviazione, la Juventus ha in vantaggio, 52esimo minuto, Adria e Rabiot, inscivolata dopo la cavalcata meravigliosa di Filip Costic, lui ha aspettato, 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 qual è? Dove è partito? Filip Costic, porta da lontanissimo, porta da lontano ancora, alza la testa, sa che sta arrivando ora più, palla a riborchio, perfetta, con il destro, non il suo mene preferito, la fa depositare in porta, Juve avanti 1-0. Costic ha, il suo traversore in mezzo, deviazione, 63esimo minuto, 2-0. Check in corso, fa segno con il braccio, andiamo a rivederlo, il sinistro, il gol annullato. Il gol è annullato a Danilo. Il 3-3 dell'Inter, con l'esterno la giocata per Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, Scesti! Con i piedi, poi colpo di testa, e porta salvata della Juve, straordinario Scesti su Lautaro Martinez, con i piedi! Faccio lì attendere l'arrivo di Quadrado sulla destra, poi si ferma, palla aperta per Costic, Costic all'aggancio, Costic! Pallo di Filippo Costic! Pazzesca occasione per la Juventus! Barella dentro, il pallone, occhio perché c'è Bronzovic libero, Bronzovic! Gran chiusura di Bremer, possiamo partire in contropiede, attenzione alla Juventus, con Di Maria, Di Maria la tiene, Di Maria con l'esterno per Costic, in mezzo c'è Chiesa, Costic, Costic, Costic ancora, dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! 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 Il raddoppio della Juventus, 84esimo minuto, Niccolò Fagioli, arriva tutta la panchina, secondo gol consecutivo in campionato di Niccolò Fagioli, Juventus 2, in 3-0! Il contropiede della Juve, ancora Costic, ancora Costic, secondo assist a tiro, leggera deviazione, 2-0 per la Juve! Finisce qui la partita, Juventus batte Inter, 2-0!